Buonasera Siamo pronti? Siamo sempre alle solide Sì Con questi agguati Va bene Va bene, va bene Ebbene, la fatta di lassù Mi si rotta La foto dopo sto a fare il video Che Winter Ho più dei tatuaggi forse se stai a mettere là è meglio fa questa partì no? si ogni roundere no? ogni round o ogni match? ogni roundere and a rincon me e in a rincon me e a rincon me and a rincon me Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. 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 a tutti.